Oh qualcuno è stato colpito Uno giù Ma guarda sta rubando le kill Bravo Sta rubando le kill Corri Lox Mi sto salvando la vita Non è vero Vai 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 Un altro giù Due kill per noi Chi ha preso? Per il loot veloce L'ha rubato lui non ci credo Zotto 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 E finalmente si fa una bella sfida due contro due cari miei Eh si Io non so se potete competere per chi fa più kill Soprattutto Ma dove pensi di essere? Noi siamo un team accattivante Ma sei in team con Gonx Cosa? Sei con Gonx Sei con Gonx Non sei contento? Con chi sarei? Con Gonx Con Gonx Ma io pensavo di essere io e Steph contro Fere Gonx No 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 dai No Ma non mi piace Eh lo so Qualcuno ci deve stare in team Eh Allora Scrivi un messaggio su Whatsapp ad Anna e dargli la colpa Se ci fosse stata Anna Gonx lo toglievamo Diciamocelo Proprio totalmente Alla fine è colpa di Anna Non è colpa di nessun altro Abbiamo la rotta di scuola Ma povera Anna Se neanche ce le stiamo scaricando la colpa È colpa sua perché tu mi ci hai voluto mettere con Gonx Allora sai cosa ti dico? Ok Noi Gonx faremo scintille Ma guarda che Devo essere sincero Secondo me una sfida del genere la può vincere chiunque Perché giochi troppo safe non fai abbastanza kill Giochi troppo aggressivo muori e hai perso E quindi è una di quelle sfide complicate Non è così banale secondo me Allora Feritina dove andiamo? Non so Decidiamo anche noi Ma sapete che sarebbe divertente andare nella stessa città Nei due opposti E sterminare la città Ma ci moriamo in instante Boschetto? No secondo me qua Nei due opposti però Nei due opposti Nei due opposti della città? Noi in quest'angolo qua Ok allora noi andiamo nell'angolo del burger Ok quindi noi al burger Ok perfetto Quindi l'obiettivo è sterminare prima la città E poi magari ci muoviamo un po' di nuovo separati Vedremo Vediamo come va Decidiamo man mano che giochiamo Lo sappiamo tutti che moriremo tutti E finirà molto semplice Sì di qua moriamo È probabile Guarda che io e Gonx ci siamo allenati Io Gonx te lo dico Oggi ci stavamo allenando Ci stavamo allenando Ma proprio allenamento pesante? Cattivo Eh Eh Ho fatto qualche kill assurda prima Eh Stava per dire qualche kill e basta Sì sì Poi ha aggiunto assurda Assurda si è salvato Ok quindi voi tutto in fondo eh Mi raccomando rispettate Il vostro lato della città Che altrimenti parte la risa interna Ma tu stai venendo qua nella nostra parte della città Ma questa non era la nostra? No non era il burger Che schifo Non ci sto più a capigia nulla Ma scusa noi abbiamo detto al burger Eh Tutto il nostro golo è questo Ma Ma È vero Ferri noi abbiamo il segno sul rosso Dobbiamo andare via Andiamo E dove andiamo? Tutto dall'altra parte Ah bravo Pensa se c'erano play Sì ma io non ho guardato la mappa Tu mi hai detto vai nella zona del burger Io lì sono scesa Ferri ha rubato un oggetto da voi Eh io non ho toccato nulla No 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 Boo Boo Non è vero Io non ho nulla Cerca granate Ma che granate? Li detoniamo Ok Per la precisione Ha una mitraglietta viola E stai ziccia ci dici a te Spione Sei un mi spazio La mitraglietta viola ci ha rubato Non ci credo Tanto conks non la sai neanche usare Non fare la sorpresa Concentrati c'è gente Dove? Ecco Tutto in fondo dall'altra parte Hanno preso loro la parte di zona Che dovevamo prendere di affare Ferri ci hanno rubato la zona Io non ho niente un pompa Hai giocato qualcosa? È la mitraglietta No dico qualcos'altro C'è una cesta anche qua dietro Poi andiamo a salvarli Sì A rubargli le kill Bravo bravo Ok Stanno già progettando di ucciderci Stef In tutti i modi possibili Oh 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 Ferri loro sono già attivi Andiamo Colpito 42 Bravo bravo Anche io colpito Senti Sì sì sento sento L'importante è evitare Fai e ti ravvicinati Esatto sono d'accordo Perché ci massacrano Giusto anche a noi però E voi sta tenendo dentro una casa? Stiamo entrando dentro Cattivi vai Dove dove Sono in quella casa che sparano Ferri Guarda Gonks Mamma mia E siamo già in vantaggio Comunque Ma dai E vabbè sì Con una kill Vedete è un team da 4 Stai concentrata Noi dobbiamo cercare gli altri Esatto Dove saranno? È solo l'inizio di questa sfida Esatto Non lo so No no è già la fine Abbiamo vinto Troppo timistia Stai andando in casa sotto E quindi da fuori Ci sono Guarda verso la casa anche tu Fai attenzione però Perché qua Li salviamo Non è per rubare la kill No certo È per salvarvi Aiutarvi Perché siete chiaramente in difficoltà No? Ma perché Ma dove è finito? Scusami Stef Non lo so Faccio una kill con stile Ci penso io No guarda che va a morire Raga è nel tetto Davvero? È la giunta la calata so Sì Bravi Secondo me l'ho presa io comunque Non ho una kill Non mi rubo la tenda Non lo so Non lo so Secondo me l'hai rubata Mi raccomando non lasciare l'ulta Questi È gente cattiva Ma fare in debito comunque Io mi ricordo Come perché Quel mitraglino Io non ho ucciso nessuno Aspetta mi devo curare Ok Hai preso il medikit Sì Perché non mi hai dato Mi piace Non abbiamo visto che ti passa Vabbè lascia perdere Lascia perdere Ma dove possiamo andare No non ho nulla Eh aspettiamo che se ne vanno i furfanti Chi era? Lion Lion? Mi ha sparato Sì Non si sa mai Bisogna stare attenti È difficile C'è un problema Siamo fuori zona Moltissimo fuori zona Se ne abbiamo uccisi Fere dobbiamo correre un botto Se ne abbiamo uccisi Potevi dirmelo in codice Così loro morivano Fere corri Corri vai Comunque si dà vincente 1 a 1 Cioè vincente nel senso vicini Non vincente nel senso kill Hey player Dove? Dove? Dove sei step? Ma perché No raga Li manco un hit Ma perché gliela volevo rubare No? Fere tu perché sei con loro Invece che con me Ma non lo so Ho seguito qualcuno Che furfante Tu sei furfante Ma tu hai fatto il kill No Dove sei? Ragazzi sono in difficoltà Eh l'ho capito Perché sei solo Lo so Accidente a te Come ti raggiungo? Guarda dove sei filato Tra la montagna Resisti Ah ma poi c'è un cecchino Non so dove Eccolo Si sono lanciati Dove sono? Lì Ah eccoli No No mi ha rubato Oh mio dio Gonk ha fatto Gonk Ma l'hai ucciso? Sì Un è morto Perché ragazzi Li avevo lasciati a dieci di vita entrambi Attento un altro Lo vedi? Sto cercando di raggiungerti Steph che sei una vergogna C'è un altro sopra Dove sono? Dove sono? Io da qui non li vedo Devo ricaricare Oh la zona La zona Stanno andando a rubare le cose Anch'io Assento c'è uno Raga vi giuro ho finito i colpi Vi prego eliminatemi di stare felice in questo momento Sei fuori però No non fa Non posso stare così fuori Eh non posso stare così fuori L'ho mattato l'altro L'ho mattato di granata Prendeci a venire a restarmi No non posso Sopra Vieni vieni ce la facciamo Ce la facciamo Ma puoi morire a me Pazienza Vieni 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 Doverete? Sopravvivete Andato Per e per e per Per e per Lo so Quante chi l'avete voi due furfantoni Io due Allora loro sono a 5 Noi siamo a due Wow Non so Perché hai fatto il giro da sola Ci rendi a me Che cosa ruba Ci sono bende Non lo so Corri corri dentro Corri dentro Corri dentro Corri dentro Corri Ti prego fare corri Devo prendermi anche armi Che non ne ho Lo so Anche io Siamo messi malissimo Perché Quanto siete? Ma è uno schifo Uno schifo Siamo a due Da me sembra molto strano Che non ci sia nessuna magazzino Piuttosto ragazzi Quindi non vorrei dire Ma mi sembra abbastanza strano Se ne siano già andati Uh lo slurp Eccoli 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 Il camion A 30 gradi Dove stai andando Dove stai andando? 3 di lo slurp Qua Qui dentro Qui dentro E lo bevo anche Facciamo il giro da qua Quindi aspetta un attimino Ok ci sa Trovato medici Best sniper ever Sta tirando l'attenzione Per non ci uccidere Visto che siamo Ho bisogno Di quel fucile Ho bisogno L'ho colpito due volte Ma non muore Io non faccio kill oggi Niente Andiamo Via Uno l'ho colpito due volte Avrà 10 di vita Che ti devo dire Che ti devo dire Ti è sfortunato Lo so Noi perché siamo qui Perché ho trovato un merito Ci vengono addosso da qua sopra Ok Ok ora Sì sì Adesso ce ne possiamo andare Ok vieni Vai 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 Stiamo lì dietro Che se li lasciamo da sole Questi iniziano a fare le kill No Era qua eh Erano sì lì davanti Ma non li vedo Ora muoiono per andare Più veloce di me Ahia Oh me hanno rotto Oh qualcuno è stato colpito Uno giù Ma guarda Sta rubando le kill Bravo Sta rubando le kill Corri lost Mi sto salvando la vita Non è vero Vai 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 Un altro giù Due kill per noi Per il loot veloce L'ha rubato lui Non ci credo Zotto Zotto Raga c'è gente che spara Non so da dove Non sto scherzando Non sto scherzando C'è gente che ci spara Stiamo a file furfanti Chiudete Stiamo a file furfanti Così moriamo tutti Io mi devo tirare un medikit Non mi rubatemi le M16 No ma mi hai fatto robare Non ho tre kills Da dove ci sparano Lo sai No Non l'ho capito 380 copi Mi sta rubando tutto il loot Ti faccio sapere Sì ma lui è bravo Cioè bravo Stora al loot Quello lo fa anche Quando siamo Raga Da dove Cavolo mi serve il medikit Paolo riprendere Di la direzione Non fare il 60 gradi Ma secondo me abbiamo gente Sopra la montagna Guarda che lì costruiscono Lo vedi dove costruiscono Quelle atono Hai preso qualche arma bella? Eh no Purtroppo no Si è rotta tutto Gonx Io pensavo al medikit Non ce l'era A me sei Cavolo non ti vedo Guarda concentrati Ti vedo Ti respira Siamo tornati a solo una kill C'è un disastro Perché Una sola kill di distanza Da fare 4 a 5 Oddio Non ce la possiamo fare Ci sparano da dentro Non ti fermare Corri Quella è la torre Quelli non li possiamo contrastare Ok Buona saperti Ok È pieno di torri Sappiandolo Ci sono Sono l'unico team Che non ha una torre Secondo me È che non ha materiali Che la facciamo Io ho qualcosa No Io ho qualcosa No Io ho qualcosa Ah Corri viene via Mi vuole un po' di teamwork Io li abbacco E tu li raccogli Vai Vai così Dai così Non è una buona idea Andiamo via Allora Mi riparo Perlomeno Perché c'è un altro team Che ci guarda da un altro lato Dove? Dove sono andati Seguiamoli Vieni vieni Ah lì sopra Sono tutti su torri Quindi fate attenzione Anche voi Spero non da dietro Hanno cechini quelli L'ho fatto cadere Ma tu hai così tanti colpi Ma tu hai così tanti colpi Da sprecarli Adesso 330 No dai Dammi ne un pochino Peri seguimi No voi non ce li avete dati Quando io ne avevo 18 Ma tu non me li hai chiesti Eh perché non potevo Sapevo di creare debiti Che stavi distruggendo prima Con il gas Mi hai capito? Più o meno C'è un airdrop L'ha visto Steph Stiamo lasciando State lasciando tutti i gong Ho visto Lai Ragazzi c'è un team Non è vero Ve lo giuro Ve lo giuro Ve lo giuro Dove? Di fronte a noi Ho visto a sinistra Il cavaliere nero di prima Lai Ok Ragazzi c'è gente che spara missili A quel cavaliere nero Quello è forte Ok Lo vedo Tutti hanno paura Del cavaliere nero Non si capisce perché Non so se sparare o no Ma non credo Te lo farò Ragazzi siamo tutti sul Stesso ponte Ma vi sembra una roba Andate bene voi Che ci fate Fatevi almeno il vostro ponte Dico io Eh bravo Lion Pensa a quello te Lo vedi lì sopra Lo vedi? Boom 5 5 Non ci credo Non ci credo Ragazzi siamo solo 12 Fuga Lancia missili ho trovato Aia Ma mamma c'è tanto Mi sta portando il posto Non ci sono Non ci sono Oddio c'è tanto Io non capisco più nulla Sento solo che insurlare Il mio amico Ah Da dietro Ci stanno sparando un sacco Non è da dove? Ma io non so se posso sopra Non ho ben capito Mi devi dare colpi Mi devi dare colpi Adesso ti dico le indicazioni Devi far saltare in aria Ma Gox tu che ci facevi lì da solo Devi andare con laio Non lo so perché Pensavo gli stessi Se può saltare in aria No ma no E' piena di gente Sgonx è nata a 6 kill Sono 4 io Dovrebbe averne 2 lion Quindi al momento siete in vantaggio di una Se noi moriamo così abbiamo perso Eh si Sarebbe brutto chiedervi di salvare Un po' ma lo farei Fere se riesci Io ho tirato diverse granate Secondo me Stai diventando più Importante vincere il game Eh si Eh Se Casi mattoni che avete Alla vostra sinistra Esattamente Questo qua Dove c'è il lion Ci sono due player Aspetta Prova a salvare lion Ce la fai tu Ok allora qua dentro Ci sono due player Dice con Sì c'è una trappola con due player Io sono morto là dentro Ma qui dentro Sì esattamente Aspetta io tengo Che fai Stanno camminando Hai pure lion Yes Porca miseria Tieni 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 Lion Grazie No Tieni Un pavimento davanti alla porta E una trappola sopra Sfondate il tetto così Raga occhio Le tatticone Io vengo da te Ho fatto un po' di volte Allora gli metto la porta E a me stanno sparando in modi strani Non capisco Non la devo fare Ok l'occhio Tieni coperta Hai capito che ci sono due Dentro quella casetta Con una trappola Sì ma ci interessano gli altri Quelli che sono realmente giocare Non quelli Raga vi lasciano Cioè Lasciano lion No Da dove? Non voglio Da 210 Non siamo dentro Hai ragione Lion Se vuoi Uno A terra Kill mia Ok No Sì Kill mia Me la verita Sì Raga un altro team Un altro team Pensiamo a vincere Pensiamo a vincere Dove? Dovete vincere Dovete vincere Dovete vincere Dovete vincere Lo vedi dove è uscito Gong È morto È morto È morto L'hanno stato fare Anche lui No Stef Uno io non lo Eh vabbè Ci avete fregato No però dobbiamo vincere Raga avete cure Dovete vincere Io l'ho data a lion Unica cura Ok non lo trovate Dai lion Adesso tutti Non state mi attaccati Raga dovete controllare Se ci rushano E il lanciaglante ovviamente è mio Vado qua E te tre contro tre Lo so Lo so Io ho solo un missile Qualcuno ha missili Eh purtroppo a me servono per questo E ne ho unici Dai dammi Ti dici che li uso bene Fere non ce li hai da darglieli No non ne ho purtroppo Un po' controllato Raga ma sono ancora sparando Stanno ancora sparando E non sono sparando a noi No magari stanno rompendo qualcosa Quindi non si concentriamo Ci siamo fuori dalla zona L'ho visto L'ho visto anche io Ok lì davanti Esattamente lì Io tiro il mio unico missile Andiamo Do good Ragazzi la zona La zona Lion Andiamo Lion Ci sono Dove sei tu Ok Voglio cercare di fare Cavolo Sai che le scale sono girate Te fai colpiti Controllo Appena posso Non è quello È scappato Ti sono stortato Allora Dove sono? Non ho colpito Cosa? Non vedo bene dove sono Sono tutti noi Occhio che vi sniperano Non ci credo Non ci credo Ce l'ho rubata No l'ho rubata Lion Ci vado All in Dov'è l'ultimo? Dov'è l'ultima? Ragazzi Manca uno Ci spiega di amico Raga è qui di fronte a me Ah no è davanti Ok Vedo per gli sferi Rivela da dietro Ti sto andando giusto Ho finito le munizioni Ascendenti Dove essere nostra No l'ho presa Lion Così Allora Lion ne ha 5 Gong 6 a 9 Noi ne abbiamo 8 8 a 9 Non ci credo Non ci credo Vai così Non ci credo Bravi però per la vittoria Dai bravi per la vittoria È stato bellissimo 17 kill In tutto Allora io voglio dire anche una cosa Noi volevamo farla Nel server privato Ma non funzionava Non funzionava nulla E gli ho detto Proviamo in game normali Io non credo che sarà possibile farlo Proviamo due volte E molliamo Primo tentativo 17 kill Perso 9 a 8 Incredibile Mamma mia Che spettacolo Quando si inizia a macinare Uuuui Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo